Alicia, oggi siete in tanti a protestare fuori dal liceo Frattini. Quali sono i problemi? Allora, i problemi principali sono sicuramente la mancanza di comunicazione, diciamo la poca sensibilità che molti dei nostri studenti ricevono. Questa non è una mia esperienza personale, io non sono qui a portare avanti la mia battaglia, però si è proprio riscontrato un ambiente ostile, che porta malessere a diversi di noi, come anche le testimonianze che stanno fuori uscendo stanno dimostrando. Con questo non si vuole andare contro la preside, al modo in cui lei lavora, e alla persona che è semplicemente, crediamo che si sia arrivati a un punto di rottura, e che questo non sia il posto giusto per lei. Di conseguenza noi siamo qui a manifestare pacificamente, per mostrare il nostro dissenso a riguardo.